Dopo un paio di minuti al massimo il cervello comincia a soffrire e se passano più di 5-6 minuti ovviamente le lesioni cerebrali diventano irreversibili. Pochi secondi che possono fare la differenza tra la vita e la morte, fondamentali, formazioni e strumenti come ha dimostrato ad Arezzo la storia della 17enne colpito da un malore mentre stava giocando a basket. La tragedia è sfiorata durante un allenamento al palazzetto Le Caselle. Il giovane sportivo improvvisamente si è accasciato a terra. Minuti di terrore per chi si trovava sul parquet. A mantenere il sangue freddo un dirigente formato all'uso del defibrillatore. Velocissimi abbiamo messo il defibrillatore che ci ha detto di dare lo shock, abbiamo dato lo shock e poi il ragazzo ha ripreso e poi è arrivata l'ambulanza, hanno stabilizzato e tutto è andato bene. Devo dire che sono stati momenti complicati però alla fine ha fatto tutto il defibrillatore quindi è fondamentale veramente fare questi corsi. Si dice sempre ma tanto a me non succede, tanto ci sarà qualche d'uno e poi dopo se non c'è nessuno tocca a te. La provincia di Arezzo è una delle più cardioprotette d'Italia, oltre 1.200 i defibrillatori presenti e censiti, 45.000 invece i cittadini formati. Per intervenire in questi tempisti così rapide occorrono due cose, accorgersi, avere il defibrillatore e ovviamente poi chiamare il 112. La società Retina di Basket negli ultimi anni ha formato oltre 100 persone all'uso del defibrillatore. Siamo ben contenti che questa cosa possa essere magari presa da esempio da altri perché aiuta molto sia personalmente ma poi aiuta sicuramente a dare un servizio a tutte quelle persone che magari in quel momento hanno bisogno.